Le quattro domande più gettonate su Toyota RAV4? Che cilindrata ha Toyota RAV4? Toyota RAV4 ha due motorizzazioni, 218 CV e 222 CV. Che tipo di ibrido è? È un full hybrid, motore termico che va in aiuto al motore elettrico. C'è anche in versione 4x4? Toyota RAV4 è disponibile nella versione 2 ruote motrici, ma anche nella versione 4 ruote motrici. Quanti anni di garanzia offre Toyota? Toyota offre ben 10 anni di garanzia. Ah, non dimenticatevi che in Liguria i veicoli ibridi non pagano il volo per 5 anni e le aree blu sono gratuite.